In Abruzzo il ruolo dell'industria è fondamentale con un'incidenza sul prodotto interno lordo pari al 27%, superiore al 24% dell'Italia e quasi 10 punti in più rispetto al mezzogiorno. Sono questi alcuni dati contenuti nel rapporto sull'economia abruzzese presentato dal Centro Studi e Ricerche di Intesa San Paola da Tessa presso lo stabilimento della Valagro. Nel corso dell'incontro, che ha visto la partecipazione di numerosi imprenditori abruzzesi, è stato presentato il nuovo accordo tra Intesa San Paolo e Confindustria Piccola Industria Abruzzo con un plafond di 1,6 miliardi di euro in tre anni. L'occasione è per ritornare a parlare di una collaborazione tra Intesa San Paolo e Confindustria Piccola Industria che ormai ha una durata ultra decennale. Questo accordo che parte nel 2016 e termina il 2019 in realtà oggi ci permette di parlare di un addendum che va a arricchirlo, un addendum che al proprio interno ha molte componenti ma credo importante focalizzarne tre. La prima è l'attenzione al capitale umano e quindi accompagnare quello che è il percorso di crescita nelle competenze, nell'esperienza dei dipendenti dell'azienda sul territorio attraverso quegli strumenti di crescita professionale messi a disposizione da Intesa San Paolo Formazione, soprattutto negli ambiti dove oggi si gioca la competizione, che è il mondo della digitalizzazione e anche dell'internazionalizzazione, quindi la vocazione all'export. Un secondo punto riguarda l'accompagnare le aziende a migliorare la cura dei propri dipendenti. Oggi la differenza la si fa anche facendo sì che il benessere dei dipendenti sia un punto d'attenzione nella strategia aziendale. La piattaforma di welfare messa a disposizione da Intesa San Paolo che si chiama Welfare Hub è uno strumento attraverso il quale le aziende possono concretamente migliorare il benessere dei propri dipendenti. Il terzo ed ultimo punto, ma non ultimo in termini di importanza, è anche l'accompagnare le aziende a curare sempre più da vicino quello che è l'ambiente. Intesa San Paolo ha stanziato un plafon di 5 miliardi di euro per interventi a medio e lungo termine a sostegno della Circular Economy e dell'iniziativa Circular Economy. Nei primissimi mesi di attivazione del plafon siamo già arrivati a livello nazionale a 100 milioni di euro di progetti presentati che sono in questo momento in fase di valutazione. Tutto questo per dire che con Confindustria Piccoli Industria Intesa San Paolo si è in qualche modo presa per mano per garantire anche sull'economia di Labruzzo un miglioramento della sostenibilità economica, sociale e ambientale.